E rieccoci nuovamente insieme, ospiti di Rabbino Auto. Io mi trovo nella sede di Avigliana e naturalmente rivedo con grande piacere Riccardo Adorno. Ciao. Ciao Sonia, un saluto a tutti gli spettatori. Tutta la gamma Renault a vostra completa disposizione da venire a vedere e provare naturalmente con ottime soluzioni di mobilità perché Renault pensa anche a risolvere i vostri problemi di traffico, per esempio con Clio GPL. Esattamente Sonia, Clio GPL, ne abbiamo parecchie, ne abbiamo in pronta consegna, quindi tutti i blocchi del traffico che ci stanno assillando in questi giorni, tutto questo tipo di problematiche con questa vettura spaziosa, economica, un costo di gestione bassissimo, ve li possiamo risolvere. Venite a scoprire l'offerta che c'è su Clio e su tutta la gamma Renault, l'offerta Green. Quindi noi supervalutiamo il vostro usato, anche Euro 4, anche recente del 2010 e vi facciamo uscire con una nuova Clio GPL che vi toglie tutti i blocchi e tutti i limiti del traffico. Bene, operazione Green, approfittatene dunque, cogliete quest'ottima opportunità per cambiare la vostra vettura e viaggiare tranquillamente e serenamente in mezzo al traffico cittadino. Detto questo ricordiamo comunque il resto della gamma. Tutta la gamma Renault, tutte vetture diesel Euro 6 o benzina, senza nessun tipo di limitazione anche queste, abbiamo delle ottime offerte, oltre che su Clio abbiamo anche delle ottime offerte sulla Renault Captur. Se vi serve qualcosa di più grosso, di più spazioso, c'è una strepitosa offerta su Renault Cajar e su Renault Megane. Venite a scoprire il monovolume e le station wagon che sono al top della loro categoria. Bene, non mancano le ottime opportunità d'acquisto per quanto riguarda il resto della gamma. Ricordiamo comunque i finanziamenti agevolati, personalizzati, studiati sempre su misura per voi. Tutte le vetture Renault abbiamo la possibilità sia di fare il finanziamento drive, quello che vi dà un extra sconto e vi consente di avere furto, incendio e casco compreso nella rata, oppure la formula Renault Way, quella che vi consente di acquistare la vostra auto, usarla tre anni e fra tre anni decidere se cambiarla, se restituirla o se tenerla. E se invece preferite risparmiare dal prezzo di listino e quindi optare magari per un chilometro zero o per una vettura aziendale, gli affari si fanno anche in questo campo? Anche in questo campo abbiamo dei chilometri zero, abbiamo delle Megane chilometri zero, abbiamo ancora qualche Clio e abbiamo dei Cajar chilometri zero. Vi aspettiamo qui ad Avigliana in Corso Torino 18, la nuova uscita tangenziale Avigliana a centro e a Pinerolo in Corso Torino 240. Bene, gentile e esauriente come sempre, io ti ringrazio, ringrazio voi per l'ascolto e come sempre linea alla regia.